Poiché è recentemente scomparso Marco Pannella, mi sembra giusto svolgere alcune considerazioni filosofico-politiche intorno alla sua figura, senza scadere nell'usuale elogio che si presta a chi trapassa e senza neppure cedere all'altrettanto sbagliato e furbiante contegno di chi diffama post-mortem. Si tratta invece molto serenamente di elaborare un giudizio seguendo l'aureo principio di Spinoza del non ridere, non detestare, ma semplicemente comprendere. Complessivamente io credo che la figura di Marco Pannella, per venire subito a un giudizio complessivo, non sia stata una buona figura dal punto di vista politico nel quadro dei rapporti di forza dell'Italia del secondo novecento. Per tutta una serie di ragioni che potremmo anche enucleare, anzitutto per venire a temi più vicini a noi, Pannella è stato tra i promotori del referendum sull'articolo 18, Pannella è stato promotore del maggioritario, Pannella è stato il promotore della distruzione della partitocrazia e quindi ha favorito il generarsi di una democrazia di tipo americano, Pannella voleva privatizzare la RAI e non rigenerarla, Pannella è stato un grande sostenitore dell'europeismo senza sé e senza ma, Pannella è stato l'inventore di tutta una serie di personaggi che definire politici forse esagerato come Rutelli e Labonino, Pannella ancora, e questo è un aspetto piuttosto grave che riguarda la sua politica negli anni, ha appoggiato incondizionatamente sempre in nome dell'ideologia dei diritti umani, da lui sposata, le aggressioni imperialistiche come nel caso di quella ai danni di Saddam, di quella ai danni di Gheddafi, di quella ai danni di Milosevic, cioè si è fatto promotore incondizionatamente di tutte le principali guerre di aggressioni imperialistiche legittimate, come sappiamo, in nome della retorica dei diritti umani. Non soltanto Pannella le ha appoggiate, ma anzi ha teorizzato, aperti sverbis, la necessità dell'intervento e di più ha egli stesso abbracciato in maniera plateale, palese, l'ideologia dei diritti umani, che come sappiamo è l'ideologia di un anti-umanitarismo di fondo, già che in nome dei diritti umani si è titolati a trattare come disumani coloro che non rispettano i cosiddetti diritti umani e quindi si è titolati poi ad aggredire in maniera disumana con bombardamenti etici, interventismi umanitari e quant'altro. Ecco, quindi Pannella è stato, da questo punto di vista, credo nel complesso, una figura politicamente, qui si parla di politica e non è un giudizio sull'uomo naturalmente, una figura più negativa che positiva, di cui va riconosciuto però anche il grande merito di essere stato sempre in prima linea nelle sue battaglie. Diceva Ezra Pound che se un uomo non è disposto a morire per le sue idee o non vale nulla a lui come uomo o non valgono nulla le sue idee. Ecco, nel caso di Pannella abbiamo detto che non condividiamo essenzialmente le idee di cui si è fatto Alfiere, ma condividiamo e anzi elogiamo l'onestà e l'impegno con cui se ne è fatto Alfiere, nel senso che ha sempre combattuto, è stato un combattente, si è fatto portavoce delle idee in cui credeva. Complessivamente, se vogliamo svolgere una riflessione sul partito radicale, sulla sua storia, quindi Pannella, Bonino e la sacra famiglia dei radicali, possiamo dire, seguendo le orme di quanto già sostenuto a suo tempo da Costanzo Preve, fermo nemico del partito radicale, possiamo dire in estrema sintesi che il partito dei radicali e quindi anche Pannella non debbono essere intesi tanto come una forza politica, quanto piuttosto come un elemento culturale che ha in qualche misura favorito, propiziato e in qualche misura agevolato l'avvento di un individualismo estremo, dell'individualismo dei diritti civili in assenza dei diritti sociali, cioè in qualche misura Pannella ha sempre portato avanti una battaglia in nome di un individualismo estremo e anomico che è quello oggi imperante nel quadro della società a regime capitalistico, in cui viene meno ogni dimensione comunitaria, ogni dimensione sociale solidale e resta l'individuo sradicato e proprietario, proprietario anche di diritti che sono sempre puntualmente i diritti dell'individuo isolato, i cosiddetti diritti civili che si affermano oggi non in coerenza con la presenza dei diritti sociali, come sarebbe giusto, ma si affermano in sostituzione dei diritti sociali che infatti stanno sparendo uno dopo l'altro. Per tutte queste ragioni io credo che tributando il giusto rispetto che si deve ai morti possiamo non di meno, senza cedere a facili ipocrisie, dire e ribadire che la figura di Pannella, fermo arrestando l'impegno per le sue lotte, fermo arrestando l'onestà sicuramente con cui ha lottato, resta una figura più negativa che positiva se vogliamo tracciare un bilancio generale.